Circa 100 biciclette noleggiabili in ben 8 punti della città di Pineto da Scerne alla Torre di Cerrano grazie alla collaborazione di altrettante realtà del territorio che si sono messi in rete per migliorare il servizio. Questa è in sintesi la formula dell'iniziativa Pineto in Bici che viene riproposta anche quest'anno dopo la fortunata esperienza della passata stagione estiva. Servizio conveniente anche dal punto di vista economico visto che la bici può essere noleggiata per tutta l'estate da un minimo di mezz'ora al costo di un euro fino al massimo due settimane al costo di 35 euro. Pineto in Bici è una rete tra operatori già del settore che da anni sono esperti del mondo della bici e che si occupano del noleggio della bici ma a questa rete si aggiungono anche associazioni e semplici volontari che si sono offerti di creare delle postazioni sul territorio per il noleggio delle biciclette. Parte di queste biciclette appunto sono di privati e altre bici invece rientrano in un progetto che si chiama Biciclettica frutto di una pianificazione nell'ambito della sicurezza stradale di qualche anno fa nell'ambito di fondi regionali. È un progetto che si trova già al suo secondo anno che vuole far sì che le bici possano essere disponibili un po' su tutto il territorio. Ci sono otto postazioni. È un progetto aperto quindi che guarda ad essere integrato diciamo di anno in anno di nuove postazioni che vuole essere anche un momento di sensibilizzazione per il cittadino per il turista che chiede sempre di più di utilizzare la bici e lasciare l'auto. Questo è un po' il percorso che sta facendo la città di Pineto verso una città sostenibile, verso la mobilità sostenibile. L'unico neo è la questione che ad oggi purtroppo non ci sono buone notizie sul ponte, sul vomano ciclopedonale. Sì, ai noi siamo ancora fermi. Abbiamo sentito la provincia proprio in questi giorni. Sappiamo di complicazioni particolari che ci sono state proprio nell'ambito dei lavori quindi rapporti con le imprese. Noi speriamo vivamente che possano essere superate al più presto perché davvero per noi quel ponte rappresenta un anello importante di congiunzione tra la nostra città, la città di Roseto ma la stessa messa in sicurezza della SS16. Oggi molte bici ad un certo punto devono andare sulla Statale 16. Questo non va bene per la sicurezza e anche nell'interesse del turismo sostenibile perché su questo stiamo puntando negli ultimi anni.